Ma tu, vabbè, tu... Tu sei tranqui. Gallina di merda! E ciao a tutti ragazzoli, bentornati sul mio canale Quadri, missione numero 9 di GTA, The Lost and Damned, siamo con Coming Down. La missione in realtà è già partita, sul finale della missione scorsa, perché abbiamo ricevuto una chiamata, e quindi... Dovremmo andare lì, abbiamo interrotto proprio in questo momento, ovviamente vi rimetterò quello che è successo qui, e noi tranquillamente andiamo a Liberty City. Ovviamente, like, iscrizione, campanella, tutto quanto, supporto di questa serie che è partita dai meandri di Nico Bellic, e andrà avanti addirittura fino a GTA V per PS5, perché adesso è il momento di dirlo e di annunciarlo. Quindi ragazzi, il supporto è una delle prime cose di cui ho bisogno, andiamo. E' cattiva sta musica, oh, che vogliono. Johnny Boy, John, I need some help. I ain't got a handout for you, I'm sorry. A handout ain't gonna fix it, Johnny Boy. I'm into something bad. I need a knight in shining armor to take me away from this mess. They're gonna kill me, or worse. Jesus, Ash, where are you? I'm a project on Ward Ice. Come quick, baby. I'll try. Vai da Ashley. Ok, lo faremo la prossima missione. Ok, prima devo... Come non posso salvare la vita? Fra, sei serio? Vabbè, allora ci deve essere per forza... Un kit medico. No ragazzi, se no io tipo muoio subito qua. Non fatemi andare a prendergli all'ospedale, dai. Devo ripestinare la salute. Non c'è un kit medico. C'è un taxi. C'era il taxi. Stevie walks down the street. Na 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 na. Ha detto let's go. Va bene. Mi sono rotto il cazzo. We're the Horde. Before, Diori was all about stopping and selling. No longer. Now, it's about turning you into a raging beast. We're the Horde. We're the Horde. Turn any party into a wild affair. With just one spray, women will be tearing the clothes off her back. Just like in your loneliest fantasies. We're the Horde. With a rock, a new radio sounds like a rap. Yo, I'm sorry did I say rap, huh? I don't shit. It's time to kill the cold. You are all. I think so. A new rock radio. Weasel, weasel. A violent battle-inactor leaves police officers dead. Here's harlot Jenny Acorn at the scene. Someone has left a bloody mess in the actor industrial park. The bodies of several police officers live dead on the ground. These cops are attached to an undercover unit investigating the angels of death. I don't care what the lawyers tell you. These biker gangs are a menace. Eh, non so se state ascoltando, ma a Weasel News stanno parlando di quello che è successo nella missione scorsa. A politics. Today harassing people, belittling them, inappropriately frisking them, and it's shocking. What a fellow officer you've gotten shit-faced on duty with goes down. Not everyone's painting such a rosy picture of these cops. Rumors abound that internal affairs has multiple investigations of terrain regarding the officers. Whatever the case, someone needs to mop up this blood and it ain't gonna be me. Jenny Acorn, weasel News. The airlines are in the cremper and you will be too. Ah, bello. Adoro. Praticamente a casa di Dwayne. E Clarence. No, Clarence va da tutt'altra parte, che cazzo dico. No, di Armand Enrique, è vero. Armand Enrique, ecco. Oltre che a Dwayne Forge. Piano piano ricollego tutto. Stadio a scatti è veramente irritante. Comunque sì, Dwayne Forge a casa. Per forza. Raga, a me dispiace deludervi. A tanto. Ma sta missione qua. Mi sa che la falliamo in maniera veramente fotonica. mi sa che ci sarà un fallimento in questa missione. Cioè, se la passo dovete veramente farmi una statua. Quella salute che c'ho. ma tu, vabbè, tu... Tu sei tranqui. Aaaaaah! Gallina di merda! Basta! Lo sapevo. Sapevo, ragazzi. Mi dovete spiegare perché non ho potuto salvare la partita e ripristinarmi la salute. Oltre al bellissimo fatto che non ti mettono un kit medico manco a pagarlo. Ok, siamo qui. Che palle, però. Cioè, qua è palesemente colpa del gioco, eh. Eh, vabbè. Non fai testo proprio. Faccio la donna. Vieni. Era qua dentro. Potevo fare tranquillamente quello che mi pareva. Missione di merda, ragazzi. Dai, missione del cazzo. Con un po' più di vita facevo quello che mi pareva sta missione, ragazzi. Drogata di merda. C'è qualcosa? C'è qualcosa? tardi. Che due coglioni. Potevo completarla con niente. Potevo completarla con niente. Ma qualche missione del cazzo che ho? Cioè, ma almeno allora datemi qualcuno di impegnativo che prove a fermarmi adesso. sennò veramente non ha senso. Sennò veramente non ha senso. D'acqua proprio non sta bene. Ops Una bella giornata C'era il sole Tutto tranquillo Invece niente Per colpa dei kit medici del cazzo Pensate un po' Mlandi One thing stays the same Commercial praise You fucking drunk Johnny What do you use your Fleece card for I used the Fleece card to have my mom put down And I got frequent flyer miles Thanks Fleece Wow, frena un cazzo Ok, dovrò cominciare a stare a freno a mano, che devo dirvi Ok, così funziona Che missione del cazzo, mamma mia Che missione del cazzo, mi perdono di quello che è appena successo Mmm, nice place you got here, sugar Not now, honey, I ain't feeling so good I thought you said you stopped smoking that stuff I did, Johnny boy, I did, I promise, I never lied to you Come on, baby, that's crap, but you know it I never lied to you when I was sober Well, my whole life's falling to shit, sweetheart I guess it was dumb of me to think this would be any different E poi ti va a fare le corna con Trevor Hai Eh, ha ragione Siamo sicuri che Johnny ci ha pulito? Siamo così sicuri? Comunque, coming down completata Io mi scuso per quello che è successo Ma veramente c'è che Mi verrebbe da tirare un bestemmione di quelli veramente secolari Però vabbè, ci vediamo per la prossima missione Che sarà off-road Che doveva essere la missione di oggi In realtà è venuta prima Coming down Grazie della visione, lasciate like al video Iscrivetevi al canale Ci vediamo come sempre Appuntamento tre volte la settimana Con la prossima mission Un bacione dai Alla prossima Like, iscrizione e campanella Mi raccomando